ciao amici e benvenuti ad un nuovo vlogmas oggi voglio condividere con voi una delle mie più risalenti tradizioni natalizie si tratta della casetta di pan di zenzero che costruisco partendo dalle basi ed arrivando al risultato finale e lo faccio ogni anno appena prima di natale oggi vi mostrerò quindi alcune delle mie creazioni natalizie degli anni passati e come vedrete sono partita da vere e proprie casette per poi arrivare a qualcosa di completamente diverso l'anno scorso e vedrete anche tutto il processo che ho seguito nell'anno passato fatemi sapere quale casetta vi piace di più e fatemi sapere se avete qualche idea da darmi per quest'anno no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.